L'episodio 2 di The Midnight Club inizia con Ania. Si sveglia da un brutto sogno e trova Ilonka già sveglia, seduta alla scrivania con la lampada accesa. Non riesce a dormire, aggrappandosi alla speranza di questo trattamento e credendo di essere nel posto giusto. Ania tiene per sé la sua amarezza. Una chiacchierata con la dottoressa Stanton porta Ilonka a parlare di nuovo di Julia Jane. Sembra visibilmente spaventata e sconvolta quando le viene chiesto al riguardo, sviando la domanda come qualcosa che è successa molto tempo fa. Stanton afferma che i file dei pazienti sono riservati. Continua dicendo che Julia era stata diagnosticata erroneamente ed è per questo che guarì. E anche la dottoressa non sa nulla del culto che era Brightcliff prima che arrivasse lì. Ma dagli occhi sfuggenti e dal modo in cui parla, è chiaro che sta mentendo. Durante la terapia di gruppo i ragazzi si aprono sui loro problemi. La dottoressa Stanton è lì e ricorda loro che non esiste una risposta superficiale o stupida. Tuttavia ci sono tensioni tra Ania e Ilonka, con la prima che sottolinea che Ilonka è in terapia e ha bisogno di seguire il programma, non le sue cure alternative. Ilonka viene criticata finché non tornano nella stanza. Dice ad Ania che sta solo cercando di conoscerla e non intendeva creare alcuna animosità tra di loro. Raccoglie i suoi rimedi erboristici e va nel bosco. Una volta lì si imbatte in una donna di nome Shasta, che sa molto di nomi e di antichi greci. Poi si allontana di nuovo nel bosco dopo la loro chiacchierata. Quanto a Ilonka, raccoglie un mazzo di fiori, ma nota uno strano simbolo scolpito nell'albero che assomiglia moltissimo a una clessidra. Quando alla fine torna dal gruppo, è tempo di creare origami. Ci sono molte gru di carta, ma quando Spence inizia a scherzare sul loro lavoro, il taglierino che sta usando lo ferisce. Tutti sclerano e questo è principalmente perché Spence ha l'AIDS. Quando Ilonka lo scopre, è colta alla sprovvista e non sa come reagire. Ania nota gli occhi spalancati di Ilonka e le ricorda che lì non si compatiscono l'uno con l'altro. Poi se ne va arrabbiata. Stanton la raggiunge e le dice alcune parole di conforto. Quando se ne va, appare una strana ombra in un angolo della stanza, seguita da una nuvola nera che si ammassa nel bagno. Si forma una figura che improvvisamente apre gli occhi per rivelare un rosso assassino. È un'immagine tremolante da incubo e ci ricorda che c'è qualcosa in agguato all'interno di Brightcliff. Quella notte il gruppo si riunisce per il loro Midnight Club, con Ania che racconta un'altra storia. È quella di Dana, una ragazza perfetta cresciuta in Irlanda e che ha ottenuto una borsa di studio per una grande compagnia di balletto. Bill era preoccupato per Dana, sapendo che la perfezione ha un costo. Dana si ritrova in conflitto tra i due lati della sua persona. Il primo vuole rimpinzarsi di deliziosi cheeseburger e scatenarsi facendo festa. L'altra vuole provare ad essere come le altre ragazze e perseguire l'obiettivo di essere la migliore ballerina di sempre. Quella notte il diavolo le offre la soluzione perfetta, un doppelganger, un'altra se sdoppiata. In questo modo potrà avere il meglio di entrambi i suoi lati. Il diavolo ridacchia e le ricorda che questo accordo sarà permanente, non può essere annullato se lei deciderà di accettare. E lei lo fa, stringe la mano al diavolo e l'atto è compiuto. Le due Dana sanno esattamente cosa dire e parlano in sincronia. Dana 2, quella nuova, prende un cerca persone e si separano. Una è festaiola, prende pillole, e l'altra studia e continua a ballare. Il fatto è che, poiché entrambe le Dana possono sentire l'altra, quando Dana 2 finisce per fare sesso con un musicista, Dana 1 prova esattamente la stessa cosa. Ovviamente tutti gli accordi con il diavolo hanno le loro conseguenze e questo porta all'audizione di Dana 1. Con Dana 2 che diventa dipendente dall'eroina e perde il controllo, Dana 1 sbaglia completamente ogni singola movenza e si rompe la caviglia sul palco. Con Dana 2, che ha imparato a non ascoltare Dana 1, l'unico modo per porre fine a questo incubo è che Dana uccida il suo doppelganger. E in un tunnel, con la pistola di suo padre in mano, le due Dana finiscono per sparare contemporaneamente. Il diavolo va a farle visita in ospedale, dove la sopravvissuta si sveglia con la gamba che le era stata amputata e le ricorda che ha fornito un modo per farle capire quale lato di lei avesse scelto. Il diavolo si fa beffa di lei. Da allora ha lottato con se stessa per capire chi fosse davvero. Quale Dana era sopravvissuta. Ovviamente questa Dana è in realtà Ania nella storia. È difficile sapere se questa sia davvero realtà o finzione. Quella notte Ilonkai rompe nell'ufficio di Stanton con Kevin e riesce a entrare in possesso del fascicolo di Julia. Tuttavia le luci si accendono, spingendo Ilonkai a nascondersi dietro l'angolo mentre Kevin finge di star male, motivo per cui è uscito dopo il coprifuoco. Ilonkai in qualche modo finisce in una visione surreale. Da un'immagine che si apre, fuoriescono centinaia di ragni. Quella strana vecchia signora di prima è tornata e le prende il braccio, affermando di avere fame. Dopo aver urlato, Ilonkai torna nel corridoio di Brightcliff nella nostra linea temporale attuale. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.